Un impegno mosso da una nuova creatività per offrire sostegno materiale e spirituale alle giovani che vivono in situazioni di precarietà e sofferenza. Così Papa Francesco ha descritto l'opera dell'Associazione Cattolica Internazionale di Servizi per la Gioventù Femminile, che dalla fine dell'Ottocento accoglie e assiste proprio quelle giovani e quelle donne in condizioni di fragilità. D'altra parte ha osservato il loro numero è in crescita con molteplici forme di povertà. È una vera felicità servire gli altri come Gesù, mediante attività permanente di accoglienza. Ma quanto bisogno di accoglienza hanno queste giovani? Quanto bisogno di accoglienza? E anche attraverso una riflessione per affrontare le nuove sfide generate dal mondo di oggi, come il fenomeno migratorio. La vostra azione vuole essere al servizio della vita e della dignità della persona. Tali giovani, ha sottolineato il Pontefice, hanno prima di tutto bisogno di attenzione e di ascolto perché, ha rimarcato, quel tanto umano e tanto divino apostolato dell'orecchio è stancante, prova, ma fa tanto bene. Così le potete aiutare a crescere nella fiducia, a trovare dei punti di riferimento e a progredire nella maturità umana e spirituale nutrita dai valori evangelici. L'invito di Francesco è stato anche a lasciarsi istruire da loro, rispettando la diversità delle culture, delle tradizioni religiose, delle provenienze, perché pur nelle difficoltà esse ci parlano di fraternità e solidarietà. Ci ricordano, ha spiegato, che dipendiamo da Dio e dagli altri e ci impegnano in quella rivoluzione della tenerezza iniziata da Gesù. È bello essere suoi discepoli missionari per consolare, illuminare, lenire, ascoltare, liberare, accompagnare. L'esperienza che Lui ci ha donato mediante la sua resurrezione è una forza vitale che penetra il mondo e sulla quale potete appoggiarvi ogni giorno, perché risponde alle aspirazioni più profonde del cuore.